Presidente, onorevoli colleghi, stiamo per arrivare con tante contraddizioni al momento finale dell'esame di questo decreto. È vero, tutti hanno parlato di scuola e parlano di scuola. La scuola è importante quando viene a mancare. Questa è la prima riflessione che Fratelli d'Italia fa su questo provvedimento. Noi voteremo contro, lo dico all'inizio, e cerco di elencare i motivi per cui esprimeremo un voto contrario. Il primo riguarda la valutazione. La valutazione è importante. Noi non crediamo che la regola del tutti i promossi possa avere degli effetti positivi sui ragazzi. Noi contestiamo il fatto che il Ministro, in data 3 aprile, abbia gettato nello disorientamento più totale le famiglie dicendo che tutti sarebbero stati promossi. Perché per noi la valutazione è importante, per noi il merito è importante, ma anche è importante definire che tutti devono avere le stesse condizioni di partenza. Ed è il merito che dovrà fare la differenza e sicuramente non l'appartenenza sociale del ragazzo. Questo è il DNA della destra da sempre. Noi pensiamo che valore e eccellenza abbiano il primato sulle differenze economiche. Ed è fondamentale. Certo, difficile stabilire tutto questo con la didattica a distanza. L'abbiamo detto e l'hanno ripetuto anche altri colleghi. La didattica a distanza è stata una risorsa perché gli insegnanti e i genitori, coi loro sforzi, sono riusciti a mantenere un filo, un collegamento con la scuola che altrimenti non sarebbe stato possibile. Ma quante differenze ha acuito la didattica a distanza? Quanti ragazzi non hanno potuto collegarsi perché non possedevano un computer a testa, se era una famiglia numerosa, perché non avevano la banda larga, perché non c'era la connessione. Ma ribadiamo anche qui l'aspetto sociale. La scuola, saluto il ministro Azzolina che ci ha raggiunto. Noi siamo stati qua tutta la notte, ministro, fino alle sei di stamattina e ora continuiamo a parlare di questo decreto perché ci teniamo alla scuola. Stavo dicendo quindi la didattica a distanza ha sicuramente dato dei problemi alla valutazione perché molti non si sono potuti collegare. Ed è molto importante ribadire che la socialità, la comunità scolastica sono stati dei richiami e sono mancati tantissimo in questo momento. Ma come dicevo prima è l'aspetto sociale, è il fatto che la scuola abbia discriminato alcuni piuttosto che altri che non avevano la possibilità di collegarsi. Questo anche in futuro non deve più accadere. Ed è per questo che la valutazione in questo anno così strano non può che essere effettuata tenendo conto dei corsi di recupero e di potenziamento che si auspica verranno tenuti. Perché i ragazzi non si possono portare dietro delle lacune. Perché questo anno in fausto non può diventare un punto nero nel loro percorso scolastico. Per questo pensiamo che la valutazione sia importante. E pensiamo anche che al Senato sia stato alquanto strano dover intervenire in un provvedimento del genere per togliere il voto nelle scuole elementari. I voti nella vita ci saranno sempre. Sostituire il giudizio con un voto che senso ha? Molte volte le parole fanno più male dei numeri. Questo è sicuramente un dato di fatto. Quindi noi siamo assolutamente contrari al fatto che siano stati tolti i voti sia nel merito che nella forma. Perché secondo noi non andava sicuramente effettuato in questo momento. Alla fine i conti con i voti si fanno alle superiori. Si fanno quando uno studente si appresta a diventare professionista. E lì come pesano i voti e come sono grandi i numeri sicuramente. Quindi, Ministro e Vice Ministro Ascani, io penso che nel parlare della valutazione non si possa non fare un passaggio sul fatto che le scuole, a nostro avviso, siano rimaste chiuse per troppo tempo. Si poteva osare di più. Noi abbiamo sentito il grido delle famiglie, donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro dopo anni e anni in cui abbiamo fatto le battaglie per l'equiparazione delle donne nel mondo del lavoro. Quante donne sono state le prime a dover rinunciare per avere dei figli minori a casa? Si poteva osare. Si poteva farlo con mille cautele, con il dimezzamento delle classi, la sanificazione e tante altre misure, il distanziamento e tante altre misure di questo genere. Invece sono arrivati dei messaggi poco chiari. Ricordo quello della didattica mista, dove Ministro Azzolina non si capiva bene chi dovesse fare cosa, chi dovesse rimanere a casa e chi invece dovesse andare a scuola. Invece penso che le famiglie avrebbero meritato più chiarezza e ancora ora la chiarezza non c'è. La confusione non fa bene al mondo della scuola. In un momento in cui il Paese è traumatizzato e le famiglie hanno dovuto sostituirsi molte volte agli insegnanti e fare i conti con ragazzi e bambini che non avevano un momento di socialità e un momento di svago. Quindi un altro motivo del nostro voto contrario è sicuramente la mancanza di chiarezza. Ora ci auspichiamo sicuramente che la pianificazione possa far avviare l'anno scolastico in maniera regolare, ma ne siamo certi? Ecco, certo, Ministro, ieri la sua dichiarazione sulle cabine telefoniche, non abbiamo ben capito cosa lei intenda fare. Avremmo preferito parlarne qui, parlarne in aula, perché questo è il luogo in cui parlare mentre c'è un decreto sulla scuola, non parlarne in conferenze stampe fuori di qua. Questo è il luogo e ringrazio il Vice Ministro Ascani per essere stata qua fino all'alba a sentire i commenti sugli ordini del giorno che abbiamo presentato. Quindi dicevo una pianificazione che deve essere seria, ci vogliono dei segnali incoraggianti, bisogna individuare i nuovi spazi, le classi non devono essere affollate, sembrano cose scontate, semplici, ma non è così perché noi sappiamo quanto sia difficile cercare di coniugare l'edilizia scolastica con le esigenze delle misure di sicurezza. Non si può perdere altro tempo e gli esami saranno il primo banco di prova e ci auguriamo che tutto possa filare liscio. Io penso che per fortuna l'esame sarà fatto in presenza, è un momento fondamentale nel percorso di una persona l'esame di maturità. Fratelli d'Italia chiedeva che anche l'esame di terza media fosse fatto in presenza, momento nel quale l'adolescente si presenta alla fine di un percorso per andare alle scuole superiori, si sarebbe potuto fare seguendo le stesse regole e le stesse misure di sicurezza. Noi abbiamo sempre sostenuto questo, sosteniamo che, come dicevo prima sulla didattica a distanza, anche in momenti così strategici di un percorso scolastico l'esame online non sarebbe stato adatto. Il nostro voto contrario contiene anche la riflessione sulle scuole paritarie, queste scuole ritenute magari a torto le scuole dei ricchi. Le scuole paritarie non sono le scuole dei ricchi, sono scuole pubbliche, fanno parte di un sistema pubblico di istruzione, spesso e volentieri nei piccoli centri diventano l'unico servizio, l'unica luce, l'unico aiuto anche per lo Stato. Se davvero non dovessero riaprire il 30% delle scuole paritarie a settembre questo sarebbe un grave danno per tutto il sistema scolastico. I nostri emendamenti erano ben calibrati, erano emendamenti non generici, non demagogici, ma emendamenti che riguardavano gli aspetti fiscali, le detrazioni fiscali, un fondo ad hoc proprio per aiutare queste scuole. I nostri emendamenti sono stati purtroppo rigettati. Noi voteremo contro questo provvedimento perché riteniamo un errore l'indizione del concorso straordinario. Noi siamo per la stabilizzazione dei precari, perché essere precari non è una colpa, non possono avere un futuro incerto questi precari. Devo dire che il collega Orfini dicendo appunto non è una colpa essere un precario ha toccato il punto, ha toccato il punto anche se di un partito molto diverso dal mio. E vado avanti, voteremo contro perché gli studenti disabili, più fragili, hanno pagato l'isolamento con rischio di annullare anni di terapie. E poi, in conclusione, penso che sia importante l'edilizia scolastica, Ministro. Noi abbiamo fatto un emendamento in Senato e anche alla Camera per dare più risorse per l'edilizia scolastica, per cercare questo collegamento con gli enti locali, per cercare di risolvere la questione degli appalti, perché è una vergogna che molte imprese speculino e ritardino i lavori nelle nostre scuole. Ecco, peccato. Abbiamo perso un'occasione, concludo, Presidente, un'occasione di fare tutti insieme una discussione, perché è calata la mannaia della fiducia. Io penso che Fratelli d'Italia continuerà a occuparsi della scuola, perché attorno alla scuola deve organizzarsi una nazione che immagina il suo futuro. E solo quando sarà ripartita davvero la scuola, sarà ripartita davvero l'Italia. Grazie. Grazie onorevole Frassinetti.